Oggi siamo per l'evento nostro del 24 maggio, premio legato al progetto di nostro padre G.B. Grattoni. Al di là di quello, oggi presentiamo la cosa forse più importante, oltre al premio che è primario per noi, perché ricorda il nostro genitore, ma anche il C.B.K.L., Casabella Kitchen Line, quindi la linea cucina a chilometri zero. Quindi dare piena qualità di prodotto a un posto facilmente accessibile. Stiamo con quasi mille persone qui in negozio, quindi con un bel pubblico, e l'altra cosa strepitosa che abbiamo è Pavia di Udine Presa, è una realtà che sta nascendo ed è un'associazione fatta da giovani, aziende che hanno una storia però importante, giovani perché i titolari hanno massimo 50 anni e fanno parte del nostro territorio, quindi un territorio che è ricco di situazioni, ricco di cose veramente importanti. Il nostro presidente è Federico Dentesano con il suo salomificio, con noi c'è gli stuzzi con fattore F, e poi abbiamo altre realtà che con noi condividono, quindi Carbank, uno spazio dedicato a macchine e a camion camper, commerciale pneumatici che poi è del Diego Della Rica che è con noi, che ha le sue aziende. Quindi il piacere di comunicare, fare gruppo per affrontare un mercato anche difficile assieme. Questa è la cosa primaria che Casabella vuole assieme a tutte le aziende che qui partecipano all'evento.